Sono Flora Forte, sono italiana, anche se sono un'immigrante di seconda generazione potremmo dire, perché sono arrivata in Italia all'età di 9 anni. Ho vissuto quindi con i miei genitori che erano nati all'estero, in particolare in Egitto e quindi ho vissuto in qualche modo a fianco a due culture e questa esperienza che ricordo ovviamente mi ha creato come a tutti quelli di seconda generazione tanti problemi, ma mi ha anche creato delle grandi ricchezze. Tutto ciò nel corso degli anni poi l'ho dimenticato e mi è venuto in mente, vedendo in questi anni tanti stranieri per le nostre città, ho pensato a quelle culture che questi stranieri si portano appresso. Questo pensiero, questo mio desiderio ho pensato di condividerlo con altri. Dopo aver incontrato queste persone mi sono chiesta come organizzare questo progetto. In realtà ho pensato che potesse essere un progetto pubblico, mettiamola così, una sorta di progetto da raccontare, da esibire, da affiggere sui mezzi pubblici lì dove spesso ci incrociamo. Mi sono rivolta a Lettera 27 che parla di condivisioni saperi, una fondazione che si occupa di condivisioni saperi sensibile al tema dell'immigrazione e insieme con me mi hanno sostenuto, hanno collaborato a realizzare questo progetto. Da maggio a luglio, siamo nel 2009, è visibile in 16, ci sono cartelloni come questi oppure cartelloni con ogni singola frase nelle stazioni delle metropolitane. Sono 16 stazioni metropolitane ai binari, lì dove ci incrociamo, ci sfioriamo fra italiani e stranieri, stranieri di qua e di là. Alla per esempio è una donna che ho incontrato qui a Milano e che è nata e cresciuta in Ucraina e che è venuta qui per ragioni familiari, aveva bisogno per curare il figlio di guadagnare di più e ha cercato un posto dove guadagnare di più ed è venuta qui. Alla è una persona squisita, molto affettiva e parlando con me, raccontandomi la sua storia, ha usato delle parole che mi hanno particolarmente commosso. Dice pioveva quando sono venuta qui, nessuno mi aspettava, sono venuta qui come una goccia che cade. Nonostante sia una donna dall'apparenza fragile, giovane, è riuscita a superare un'infinità di difficoltà. Come dice lei, ha avuto la buona sorte di incontrare delle persone che l'hanno aiutata. Ion è un ragazzo moldavo che dice quando arrivi qui cambi, nel mio paese anche a 22-23 anni ti puoi permettere di essere piccolo. Qui ci sono altre persone, altre tradizioni e questo ti cambia, qui il pensare è diverso, le persone, le mimiche, gli sguardi. Là parlavo veloce, non ci pensavo tanto, qui cerco di pensare. Di suo è un ragazzo molto riflessivo come si vede, però è una persona che capisce che vivere o avvicinarsi ad un ambiente completamente sconosciuto non è come stare a casa. Quindi devi mobilitare le tue risorse, le tue energie, e le tue intelligenze. Grazie.